Dal punto di vista dell'aspetto giudiziario io direi che ci troviamo di fronte a un uomo che dà coraggio a giorni alterni. Un giorno chiede di essere processato e quando invece c'è questa possibilità chiede di essere tutelato. La Commissione, la Giunta del Senato ha avviato i lavori proprio nella giornata di ieri, credo, e farà l'istruttoria e sicuramente Italia Viva assumerà la sua responsabilità perché la nostra posizione è sempre quella. Nessuno deve scappare dalla legge, se ci sono gli elementi per arrivare al processo ognuno deve predisporsi in questa condizione. Se Salvini lo vorrà fare con una sua richiesta dimostrando il coraggio che ha gridato quando si sentiva forte, va bene, altrimenti noi voteremo nella Giunta così come diranno gli atti che andremo ad analizzare, non con pregiudizi.